La parola scritta porta alla riflessione. C'è differenza tra la parola scritta e il racconto per immagini. Il racconto per immagini è accettabile ma è passivo. Nella lettura si è attivi. Noi dobbiamo simulare l'attività della lettura. Maurizio De Giovanni è il nuovo presidente del Premio Napoli, la fondazione cittadina che promuove la lettura, la ricerca letteraria e il dibattito culturale sul territorio. La nomina è stata voluta direttamente dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Non dobbiamo mai pensare alla lettura come una cosa di nicchia. È il contrario di quello che è. La lettura deve essere diffusa. Ora, qualsiasi lettura e qualsiasi forma di diffusione va bene. Secondo l'Istat, la campania è fra le regioni italiane con meno lettori. Per De Giovanni l'obiettivo principale è quello di sviluppare una capacità di lettura attiva anche attraverso il gioco, per stimolare soprattutto nei giovani le funzioni della parola scritta. Abbiamo un'intera futura classe dirigente che non pratica la lettura. Quella sfida che noi raccogliamo con orgoglio è quello di portare in mano i ragazzi napoletani, campani, un libro con molta urgenza, portarlo non imporendoglielo, ma cercando di stimolare l'interesse della lettura. Il premio Napoli deve diventare una grande agenzia di promozione della lettura e lo deve fare non solo interagendo con quelle che sono le agenzie educative tradizionali, immaginiamo sicuramente la scuola. Noi abbiamo fatto un po' un anno di riflessione per capire come poter rivedere la missione di una fondazione che fa parte della storia della città, ma che chiaramente dopo 50 anni ha bisogno anche di aggiornarsi rispetto a quelli che sono i mutamenti della nostra città e con una missione chiara, cioè utilizzare veramente la lettura e il libro in tutte le sue accezioni, quindi anche il libro virtuale diciamo così, come grande strumento di educazione della città e di educazione anche alla democrazia e alla partecipazione, perciò io sono molto grado a Maurizio e Giovanni che, malgrado i suoi tanti impegni, ha accettato questa sfida perché questa la ritengo una sfida centrale per il futuro della città.